Di, du, di, du, di, du, di, du, di, du, di Oggi voglio giocare con un elemento economico e facile da recuperare che nella stanza di un bambino diventa utile e molto divertente il pallet Partiamo da una base azzurro cielo su cui faremo apparire il nostro protagonista Ok, però ne preferisco uno bianco. Oh, molto meglio! Ora con spago e puntine creerò uno zigzag per appendere dei disegni. A questo punto so che vorreste vedere tutta la parete allestita. Eccovi accontentati. Tra un'asse e l'altra potremo mettere libri, riviste, giochi, disegni. Tutto l'occorrente per lo studio e il divertimento di un bambino. Grazie a tutti!